Unità 15.13 Unità 15.13 Sì, ho avuto un dialogo, adesso magari se il punto io non ho avuto perché mumm gli raccitti. Giù, quando essi dialogo visto che questi raccitti vengono più queste forme. C'è chi ha visto queste forme se non si scambiasse dire i detti? Alla buona ora, pensavo che non arrivassi più. Lascia perdere, sono nero. In effetti, hai una faccia? Che ti è successo? Non ne parliamo, ho appena litigato con uno. Hai litigato? Sì, con un caffone. C'è mancato poco che gli mettessi le mani addosso. Dopo aver girato 20 minuti in cerca di un parcheggio ne trovo uno qua nei paraggi e subito questo tizio viene a dirmi che quel posto è suo perché lui abita lì da 30 anni e tutti nel quartiere lo sanno. Ti rendi conto? Io che già ero nervoso di mio e gli ho detto che sono un vigile e di sparire se non voleva che chiamasse subito i colleghi. Allora quello se ne è andato con la coda tra le gambe. Ma che nervi! Che gente che c'è in giro! Dai! Sono cose che capitano bisognerebbe che tu ci dessi meno importanza. Allora, vediamo questo testo. Alla buonora! Alla buonora! Galvoio cad pensavo che io c'è in giro che pensavo che pensare che valdo congiuntivo. Tu hai detto l'obus viene a congiuntivo forma. Mums c'è in giro ma per dare un concetto a lei nel giro ma sapo? Pensavo che non arrivassi più. oi? Pensavo che non arrivassi più. Cosa non si sta beate vai 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 e vedi, è tutto quando devo provare a arrivare e tutto quello. Lascia perdere magari avete fatto un po' di richiedere li ha messi non, lascia perdere e rischia si, non si pensi che era anglibe, le non lo trovo magari sono gli altri che ci chiedono come si chiedono come si chiedono come si chiedono non ci chiedono e non so la cosa, non so la cosa, non so, non so, non so. E sono meno, sono meno. Nero rischi, giudas, giudas, fo va, quindi si ti chiede? Victa. Picti, picti. Sono meno, anche pictus. Segui attivi italiani, chi ha già già esclato, a tutti gli altri, sono, sono e meno, non sa che si è ancora, ma che gli stanno attraversando, i problemi di essere rascinati. però in effetti in effetti la funzione passata in effetti riesce a preparare questo cato o catechino in effetti in effetti in effetti in effetti hai una faccia tu vieni a vedere hai una faccia che riesce a capire che è una faccia che riesce a capire che è una faccia hai una faccia hai una faccia che è il caso che è stato un attimo che è successo non ne parliamo che è quello è quello che è quello che ha fatto su Tokyo con uno uno c'è la più altissima passaggio su su qualcosa su su con uno non vediamo che è piuttosto non vediamo con uno su Tokyo su Tokyo su vieno su vieno su vienu tokiu su vienu tokiu su kažkuo su kažkuo su kažkokių vyriškio toliau susipikai ai litigato grįčiau kad jūs šiaip kalbate bet net atvej kalbate si su kažkoki cažkokių su kažkokių cažkokių su kažkokių cažkokių cažkokių klučkokių cažkokių cažkokių su kažkokių cažkokių 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 le mani, mettere le mani, uscitas addosso e si, si, non si ragione, addosso io si dirà toxretas che ho trovato un addosso riesce a... andas andas c'era che invece di polimo riesce a me addosso addosso era il normale locale, ma la fatica si era andasmen, sancuno famigli portare addosso non ho addosso il telefonino non so cosa mettermi addosso non so cosa mettermi addosso 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 passatemi dare addosso variti al conosce dare addosso a qualcuno darirà farsela addosso farsela addosso farsela addosso farsela addosso farsela addosso farsela addosso dare addosso bene rischia Freud stare addosso ma non so abbastanza addosso 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 saltare addosso e poi si può saltare addosso Dopo aver girato 20 minuti faccio giù in una versione Dopo aver girato 20 minuti dopo aver girato 20 minuti non succhiato 20 minuti Po... Neina Po butti su... Neina 20 minuti in cerca di bejescant e uskodermas un parquetio Stoju in externa sto neuviamo vieto Stoju in un vieto Mi trovo uno Rando in viena Rando in viena C'è nei paranči paranči giriamo, giù, sverdeta, svelato, ma se bene ne finiamo nei paranči riešca come si chiama Nettolese, Appillingese, ciò si è dietro come noi c'è Nettolì nei paraggi! gira la caministai abita nei paraggi si e qui c'è una cosa che è la prima di chi nominare? Tizio non in me ne se chiede è Tizio questo tizio a te non mi ha passato? mi ha detto ti rendi conto? 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 ti rendi conto e te non ti rendi conto? te ne facciamo i due ma come ci sono questi passaggi ci sono ? ti rendi conto? mi ha detto che c'è il francesco ti non sapevo se se ti ha suscritto se ti rendi conto? contare, conto e sasminata se ti ha seguito se ti ha seguito? se ti ha seguito? non ce n'è l'italiano se te rendi conto? Cosa hai? Io. Quello che io avevo nervato. Che già ero nervoso di mio. Poi di mia che città? Era nervoso di mio. Riesca pazzo. Io avevo nervato. E io avevo già nervoso di mio. E io gli ho detto che adesso? Che sono un vigile. Quali sono i vigili? Vigile era il posto della polizia in casa. Adesso si diceva che era un vigile urbano. Vigile urbano. Vigile era un gioco vigilare. Vigilaresca budeti, saugoti, sergeti. Ma ti ugnagessiei vadinami ugnies sergetojei. Questa è scambola, sì. Vigili del fuoco. Sì, ugnies sergetojei ma per voi dilute. Io ho scoperto. Vecce ne. Vigili del fuoco, cosa? Vigile del fuoco. Vigile era sergetoje. Vigile. Vigile erbano festa quindi migile del fuoco. Vigile del fuoco Vigilato del fuoco Vigilato del fuoco Sì, hai il cuore Vigile del fuoco Vigilato del fuoco E ora era il rapporto migile urbano C'è quello che posso dire? C'è quello che posso dire? Voi dire i policiali e i policiali. Cos'è quella? Polizia! Mi ha fatto una scuola e c'è stato fatto per il ministro Pavel. C'è stato non carabinieri. Cos'è stato carabinieri. Carabinieri, che sono stati in Valteria, che sono stati per chi? Carabinieri. Quindi, ma è stato un po' che c'è stato un po' di cui tardi, che hanno chiesto. Carabinieri. C'è ora uno, chi è stato fatto. Non c'è stato un po' di cui non c'è stato un po' di cui non c'è stato un po' che è stato un po' di questo ministro. Da noi vi inserimi poi eserito la polizia, guardia di finanza guardia di finanza io apprengo era giallè non è che vinga giallè giallè è quello che vinga giallè è quello che vinga no 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 non è giallè non è più giallo non è più giallo giallo guardia di finanza non è che c'è il padre x lucas che c'è il padre x lucas non è giallo benissimo giallo vigili urbani polizia carabinieri e guardia di finanza ma già ci dovete capire scrivi che non ci sono ma non ci sono ma anche il padre x lucas ci sono dei miei non ci sono non ci sono ma ci sono se non ci sono guardia di giurata guardia di giurata guardia di giurata giurata è perché ci sono nucleo antimafia anticontraffazione e poi ci sono il buon costume il buon costume che si è il buon costume il buon costume è che il buon costume è che si è il buon costume è che va bene va bene io ho detto che sono polizianica che sono un vigile e gli ho detto gli ho detto che i colleghi i colleghi cosa è? quello se ne è andato io vi piaccio spasare ma con la coda tra le gambe si, spasare ma si è in teatro si, fabbruches quodega con la coda su odega coda tra le gambe fabbruches su odega, che pensi con la coda tra le gambe? che significa con la coda tra le gambe? si, si 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 abbattuto 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 va bene bet kokie nervi? kokie žmoni che gente che c'è in giro ma che gente che c'è in giro si ma si ma che borsa che hai con che simpatica è Antonella? che simpatica che è Antonella? si con che darba dirvi? che lavoro che fai? si che lavoro che fai? si 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 vendita vediamolo va bene dai 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 sono cose che capitano ma sono cose che capitano sono cosa che capitano sono cose che capitano capitano se scrisate capitano capitano capitonas Sì, ragazzi abbiamo detto che ci sono un gala, capitanò. Per me non ci sono leico, ma non ci sono più maggiori. Però vi chiedo, che tu, tam tec tu maggiore servozza. Ci dessi meno importanza. Ci dessi meno importanza. Questo è il caso di ci. Cattano? Sì, tasta che ho asce. Cattate, ma più facilitarci. Che sono le stasci? A le cose che capita. Non dare importanza a qualcosa. Il caderno di passacchiamo è su a qualcosa, che devo dire che c'è a me. Ci. Ci tu devi asciugare, ci tu devi asciugare. Bisognerebbe che tu ci dessi meno importanza. Visto ci sono le forme. Arrivassi, mentessi, chiamassi ed... Ci dessi. Il congiuntivo imperfetto. Formos. Iena. Il congiuntivo. Sistema. Per me. Io. Vi salvo a me. No. Se nulla. Qui. Facciate. Pensavo che non arrivassi, no? Galvoio cadneatissi. Faccio giù in mano da versi. Beh, te lo facciamo arrivassi. Ripetendo ieri. Rupresci. Te dice in a. Ieri attetom. Se. Arrivassi. Ieri attetom. Agherai. Ieri ischiestom. Se chiamassi. Ieri maggior attetom sorgos. Se dice in a importanta. Se dice in a importanta. Se dice in a importanta. Bet si che dice in a importanta. O, gerai. Tai reikėsiu dalokį paskui išmokti. O apie šitas formas jau galbėta ir filmuota, morfologiniu pažiūr, o užsintaksės vartojimo pažiūros bus atskirias filmukas.